Ciao, questo è Fitness Prevair, serie piccoli tutorial. Andiamo a vedere un esercizio base del lavoro a corpo libero, ossia i piegamenti sulle braccia o più conosciuti come push up, impropriamente chiamate flessioni sulle braccia. Errore comune è quello di lavorare con i gomiti troppo alti, invece l'idea è quella di mantenere un angolo leggermente inferiore ai 90 gradi fra l'omero e il tronco. L'idea, una volta a terra, è quella di voler strappare un foglio di giornale con una rotazione esterna delle braccia. Posizione non troppo larghe rispetto alle spalle, ma al di sotto o appena fuori. Posizione di plank, quindi glutei in controllo, talloni uniti, testa allineata. Nello scendere porto il petto verso terra per poi risalire. è il petto a toccare terra, non l'addome, non il mento. L'idea è di scendere perfettamente e su. Meglio ancora, se volete fare le cose fatte con accademica, nello scendere appoggio, stacco le mani e risalto. Vista di profitto, posizione, controllo, attivazione degli scappolari, gambe, testa allineata, non guarda giù, non guarda su, guarda leggermente avanti, circa un metro da voi. Discesa, toccare e su. Facilitazione, ridurre ovviamente il braccio di leva, appoggio le ginocchia, non servono posizioni strampanate, incroci, appoggiatele bene, posizione la stessa, discesa, risalita, discesa, risalita. Ulteriore facilitazione, ma proprio se ci sono dei problemi, e ovviamente lavorare ad anche flessi a 90 gradi e quindi questo movimento, anche se non particolarmente consigliato. Per questo è stato utile. Alla prossima!